Una notte di passione per i commercianti e gli esercenti di Chioggia di Sottomarina e un risveglio per alcuni da incubo. I soliti ignoti hanno fatto tabula rasa tra i locali, soprattutto in strada Madonna Marina, ma arrivando ben oltre, toccandone tanti, facendo danni consistenti in più di un esercizio, rompendo infissi, vetrine, porte, rubando i cassetti dei registratori di cassa e facendo tanti danni che per essere sistemati faranno spendere denaro e chiamare all'ordine le assicurazioni. Uno dei due malviventi ha lasciato tracce di sangue, ferendosi, portando via il cassetto portavalori da una delle attività, gettato poi nella vicina via Belfiore, e la polizia scientifica ha potuto prendere le tracce che saranno analizzate e che molto probabilmente confermeranno i sospetti. Ci riferiscono che per tutta la mattinata via Madonna Marina è stata presidiata dalle forze dell'ordine e dai militari del corpo dei carabinieri, alla ricerca di indicazioni che portino senza alcun dubbio ai colpevoli. Reati che si stanno propagando a macchia d'olio e che fanno sentire la popolazione succube e indifesa. Pizzeria dei Fioi, Peccati di Gola, uno dei bar nei prassi di Via Alga, bar dei Romani a Chioggia, un calzolaio in via Belfiore, tutte attività toccate questa notte dalle due e mezza a tre alle quattro. Sembra che i danni maggiori li abbia subiti la pizzeria dei Fioi, a cui è stata distrutta la porta. Stamattina in un posto abbiamo accennato al furto al bar dei Romani in centro storico a Chioggia, prima di conoscere la notte brava che hanno avuto i due delinquenti. Presumibilmente si tratta dei soliti conosciuti alle forze dell'ordine che ogni volta che vengono catturati si ripropongono il giorno dopo commettendo gli stessi reati. Non c'è negoziante che non tema di essere chiamato la notte o di aprire il locale la mattina trovando un'amara sorpresa. Siamo in balia di due miseri delinquenti per i quali la cattura, la flagranza o l'ulteriore denuncia non fanno né caldo né freddo, al contrario delle persone e delle attività che vanno a danneggiare e sembra impossibile che non ci sia nessuna tutela. La denuncia è il primo atto ad affermare che la città non è più sicura e a far sì che la richiesta di ulteriori forze a presidio del territorio venga fatta a chi di competenza, ma serve anche la garanzia della pena e questo va studiato ai piani alti. La città non sembra essere più l'isola felice che credevamo fosse. Siamo una città in balia di due delinquenti contro i quali sembra che nessuno riesca a intervenire in modo decisivo. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.